niente ragazzi questo breve video che vi ho caricato solo per dirvi che oggi la situazione quando noi era veramente grigia vi lascio al video scusate se sto facendo questa prima ho usato un video che ho registrato quest'inverno infatti vedete quella maglietta maniche lunghe perché andavo di meglio beh nulla vi lascio il video e si è ancora noi oggi pomeriggio che era proprio grigia nel vero senso della parola eccomi qua ragazzi guardate guardate che cielo che avevamo devo dire che a me piace perché boh mi ispira però per chi a cui non piace insomma non è molto bello da vedere anche perché non si sa cosa potrebbe scendere quindi si infatti è piovuto sta piovendo